Buongiorno amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 8 luglio 2022. Festeggiamo oggi i Santi Aquila e Priscilla, erano due santi romani che erano stati discepoli di San Paolo, direttamente discepoli di San Paolo. Erano marito e moglie, cacciati da Roma da un editto dell'imperatore Claudio che aveva cominciato a perseguitare i cristiani, si erano stabiliti a Corinto. E qui era arrivato Paolo e i Santi Aquila e Priscilla lo avevano ospitato nella loro casa, una casa che era diventata un centro di raduno dei cristiani. Tornati a Roma per salvare l'Apostolo, ebbene rischiarono la loro vita. I Santi Aquila e Priscilla sono due protagonisti degli atti degli Apostoli, così abbiamo imparato a conoscerli questa mattina. Vediamo subito le previsioni del tempo, così completiamo l'almanacco. Vediamo che, ebbene, ieri sera sembrava che scoppiasse il finimondo, molte nubi c'erano addensate sulla costa, in modo particolare anche su Fano, però non è caduta una goccia d'acqua. Ebbene anche oggi le previsioni annunciano un forte maltempo nelle Marche, poi un miglioramento, ma il maltempo avrebbe dovuto già esaurirsi durante la notte, già questa mattina il cielo appariva a sgombro di nubi. Il clima è ventoso e fresco nelle prime ore del mattino, le temperature sono leggermente calate dai 28 gradi delle massime di ieri, siamo arrivati oggi alle 27. Il clima, dicevo, è ventoso e fresco e i venti sulle coste espireranno da una direzione di nord-nord-est, così come nell'entroterra. I mari sono calmi, leggermente mossi perché poi c'è questo alito di vento che solleva un po' le onde. Ebbene, ora apriamo il giornale, abbiamo il Corriere Adriatico, questa mattina nella pagina di Fano, anche il resto del Carlino annuncia questa bella notizia. Fano si riappropria della Fano dei Cesari, chiamata Fanum Fortune. Fano dei Cesari, ritorno in grande stile, annuncia il Corriere Adriatico, confermata anche la Corsa delle Bighe. Insomma, questo è l'evento clou della manifestazione, perché senza la Corsa delle Bighe, la Fano dei Cesari perde della sua originalità. La città diventa come una delle tante feste e rievocazioni storiche che si organizzano un po' in tutta Italia, soprattutto per quanto riguarda la fase medievale. Con una delle manifestazioni dunque più amate dai suoi cittadini, che vi partecipano non solo come spettatori, ma anche come attori, come protagonisti, la città intende valorizzare le sue origini romane. Ieri è stata presentata questa grande manifestazione, che avrà quattro giorni di iniziative, dal 14 al 17 luglio. E ci saranno tante iniziative di vario genere che coinvolgeranno gli adulti, ma coinvolgeranno anche i bambini. Tutto un susseguirsi di rievocazioni, di rappresentazioni, giochi, spettacoli, che combineranno appunto con la Corsa delle Bighe, il 17, domenica 17, a cominciare dalle ore 21 e 30. Giovedì ci sarà l'inaugurazione, l'apertura degli accampamenti al Pincio, poi avremo la cerimonia del fuoco, che verrà consegnata un po' a tutti gli angoli della città, per così simboleggiare questo ritorno a un tempo antico, a un tempo di 2000 anni fa. E poi abbiamo, nella giornata di venerdì, 15 luglio, l'affano dei cesarini, questa simpatica manifestazione che si svolge al Pincio, con le bighette, le piccole bighe, con a bordo i bambini, però trainate, non da animali, ma trainate dai loro genitori. La novità di quest'anno è quella che, al posto dei genitori, potranno anche partecipare a questa iniziativa i nonni, gli zii, insomma, le famiglie allargate dei bambini stessi. Sabato si entra nel vivo con la festa delle fazioni, le quali, a partire dalle ore 19, insceneranno le loro rappresentazioni nel tema dell'affano dei cesari di quest'anno, che è quello dei popoli conquistati dai romani. E infine, domenica, domenica la grande giornata, con la sfilata oceanica, speriamo che sia così, dei cittadini fanesi, vestiti da antichi romani, secondo i colori delle diverse fazioni, e poi la corsa delle bighe. Questo spettacolo, che sì, è un gioco, non è una contesa agonistica vera e propria, ma è sempre emozionante vedere correre i cavalli attorno all'anello del Pincio, in modo particolare affrontare con impeto le curve che destano sempre un po' di emozione e di soddisfazione da parte del pubblico. Vediamo le altre notizie. Sarà Luca Barbarossa il futuro sindaco del paese dei Balocchi, che privilegio ha dichiarato lo stesso cantautore. La notizia è stata data da Michele Brocchini l'altra sera, durante lo spettacolo organizzato appunto dal paese dei Balocchi, che si è svolto nella chiesa di San Francesco. Ebbene, in quella occasione Luca Pagliari, un grande affabulatore, un giornalista scrittore, ha raccontato la storia di Renato Cesarini. Renato Cesarini, nato a Senigallia, emigrato da piccolo, da bambino, con i suoi genitori in Argentina, qui cresciuto nelle favelas e poi diventato un grande campione di calcio, uno dei più grandi campioni della prima metà del secolo scorso e poi famoso per quanto riguarda come allenatore la famosa zona Cesarini, il cui disegno ancora si propaga e si ripete ancora oggi. Vediamo come ci saranno diverse iniziative di questa manifestazione che si svolge in un luogo il cui nome già denota un'appartenenza simbolica, piazza bambini del mondo a Balocchi. Una grande festa per i bambini che rievocano la storia, la favola di Pinocchio, ma ci saranno anche degli intenti educativi, perché i sindaci che si sono alternati nel paese dei Balocchi hanno portato argomenti di grande attualità e di grande interesse. Ebbene, Luca Barbarossa è anche un grande conduttore radiofonico, ha una trasmissione su Radio 2, e beh, parlerà anche delle sue canzoni e della sua attività. Qui abbiamo invece una presa di posizione di Maurizio Tommassini, un operatore sociale che occupa un posto rilevante nelle ACLI. Il modello di ambito sociale ricalchi il distretto sanitario. Per Tommassini è questa la dimensione ottimale. Devono combaciare gli ambiti sanitari e sociali con i distretti. Ebbene, questo non accade in questo momento, perché l'ambito numero 6 non coincide con i distretti. Abbiamo un disegno territoriale che mal si concilia poi con le esigenze delle stesse popolazioni residenti. La dimensione ottimale degli ambiti sociali deve coincidere con il distretto sanitario. E questa, nella sostanza, la conclusione cui giunge il sociologo Maurizio Tommassini, esponente della Direzione Nazionale ACLI, nel suo intervento, che tocca temi come l'integrazione socio-sanitaria e il welfare di comunità, un modello partecipato di politiche sociali. In questo momento sappiamo come il terzo settore ha acquisito una nuova configurazione e giunto al pari delle istituzioni, delle amministrazioni locali, per quanto riguarda la progettazione del welfare di comunità in generale. E quindi è un momento molto importante. E veniamo alla politica. Vediamo come il Partito Democratico sconfessa i socialisti, per quanto riguarda l'apertura di un nuovo dialogo provinciale con Marche Multiservizi, per quanto riguarda non solo la realizzazione del biodigestore, ma anche la politica d'intesa per affrontare con una opportunità a meno di successo le prossime gare in cui verranno messi a gara i servizi a partire da quello del gas del prossimo anno. Una manifestazione di interesse che non può essere rimessa in discussione. Lo hanno dichiarato il segretario del PD, Tommaso Dell'Adora, ma anche il capogruppo del Consiglio Comunale del Partito Democratico, che ha ribadito appunto questo concetto. Abbiamo poi altre prese di posizione. Vediamo il capogruppo consigliare della Lega, Gianluca Ilari, a sua volta assai critico nei confronti del Partito Socialista. Oltre a Dell'Adora sono intervenuti, vediamo ancora altri esponenti, come il portavoce di Incomune, che è stato poi il primo a replicare alle posizioni del Partito Socialista espresse appunto l'altro giorno con una conferenza stampa. Passiamo ora a Fossombrone. A Fossombrone abbiamo una notizia di cronaca. Una notizia di cronaca che riguarda una reazione in consulta da parte di un paziente, lo diciamo tra virgolette, che ha fatto riferimento al pronto soccorso. Aveva una ferita alla mano, doveva farsi curare, ma così inaspettatamente ad un certo punto ha inveito. Ha dato due pugni in faccia all'autista dell'autoambulanza, ha spaccato il vetro del mezzo e poi si è introdotto nel pronto soccorso spargendo veramente il panico e poi scappando all'arrivo dei carabinieri, i quali sono ora sulle sue tracce. Sembra che non sia la prima volta che l'uomo reagisce in questo modo. Non si sa che cosa gli sia saltato in testa quando ha dato in escandescenze. Resta questo un mistero per tutti. Ora però, insomma, l'uomo viene ricercato. E ancora passiamo a Senigallia. A Senigallia vediamo come i controlli elettronici vengono incentivati un po' su tutto il territorio. Sono ora 140 i nuovi occhi elettronici che vengono attivati per verificare la viabilità, ma anche l'ordine pubblico. Scatta un investimento di considerevole, pensate, 6 milioni di euro. Il progetto di videosorveglianza approvato in Giunta, in Consiglio Comunale di Senigallia. Nel piano ci sono quattro sistemi per monitorare anche il fiume. E' questo un aspetto della sicurezza di grande importanza. Sorvegliare il fiume per evitare quello che è accaduto in passato quando il fiume inaspettatamente, ma non tanto, ha debordato dagli argini e ha causato tanti, tanti problemi e tanti danni. Il progetto inoltre prevede la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione per garantire un efficientamento energetico oltre all'illuminazione architettonica della Rocca Roveresca. Un monumento molto, molto suggestivo che si vede passando proprio, anche attraversando semplicemente Senigallia nei pressi della stazione. E restiamo in questa cittadina per vedere come le forze dell'ordine hanno individuato dei cani maltrattati e venduti in nero. Tra i 15 indagati ci sarebbe anche un sindaco. Si tratta di Marco Sebastianelli, sindaco di Tre Castelli, ma avrebbe avuto però un ruolo marginale nella vicenda, secondo quando afferma il giornale. Diversi i reati contestati ai 15 indagati. Si tratta di reati di reati che si riferiscono a che cosa? Vediamo un attimo. Si tratta di imputazioni come la vendita di cani sequestrati. Sarebbe infatti emerso che alcuni esemplari, nonostante fossero sotto sequestro, sono stati venduti, ceduti, previo compenso. Quindi cosa che ovviamente non si poteva fare. Diamo anche un'occhiata allo sport, così come ce lo comunica oggi il Corriere Adriatico. Per quanto riguarda la Vis, abbiamo una stretta di mano, anzi di pugno, tra il sindaco Matteo Ricci e il nuovo allenatore della Vispesaro, Sassarini. Sassarini, idee nuove e passione. Presentato ieri in comune, il neo allenatore della Vis. Nel mio futuro c'era la Turchia, doveva andare in Turchia, ma alla fine Sassarini ha preferito Pesaro. Qui sono a casa, ha dichiarato. C'è la fila per venire a Pesaro. Menga, che è responsabile dell'area tecnica della Vis, Sibillino, ma non troppo. Sembra un po' che dica e non dica le sue cose, ma alla fine si sbottona. Pronti per il ritiro della squadra, la società insiste per il centrocampista del Piacenza, Cesarini, De Respinis al San Giuliano City. Russo e Mosconi al lavoro per il Fano. Sta prendendo forma la nuova squadra. Presidente e mister adesso sono a caccia dei pezzi mancanti. Qualcosa si è acquistato per i Granata. Occorre ancora rafforzare la squadra per affrontare, speriamo, nelle migliori condizioni il prossimo campionato meglio di quanto è stato fatto in passato nei due campionati precedenti. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico per quanto riguarda la pagina marchigiana e vediamo come è un'iniziativa questa che interessa un po' tutti gli abitanti del Regione. Roma, Milano e Napoli. Voli operativi a settembre, poi rotta su Amsterdam. Sono le rotte dell'aeroporto di Falconara. L'amministratore delegato dell'International Airport Bassetti traccia le coordinate del Raffaello Sanzio. Siamo tornati ai livelli pre-Covid ha dichiarato. Gli aerei partono tutti pieni. In alta stagione passano dallo scalo delle marche 60.000 passeggeri al mese tra le destinazioni 5 metri italiane e 6 straniere. E qui le vediamo in questa tabella. qui vediamo l'aeroporto di Falconara poi vediamo le linee che partono e arrivano in destinazioni italiane Olbia Cagliari Trapani Palermo Catania e per quanto riguarda l'estero invece abbiamo Tirana Cracovia Monaco Dusseldorf Bruxelles e Londra sono queste le destinazioni per le quali è attivo un collegamento diretto dell'aeroporto delle Marche L'altra notizia pubblicata a livello regionale che interessa un po' tutti è quella della sanità ondate e picchi dei ricoveri il covid ancora persiste anzi aumenta si diffonde terapie intensive al riparo il vaccino ha fatto la differenza proteggendo molto per quanto riguarda la gravità dell'infezione però non ha protetto per il propagarsi di questa perché le varianti hanno un po' avuto la prevalenza e vediamo qui in questa tabella le ondate a confronto che cosa è accaduto è accaduto che nella massima espansione l'incidenza settimanale era arrivata nel marzo del 21 a 353 nuovi casi ogni 100.000 abitanti marchigiani vale a dire circa 5.000 nuovi contagi a settimana e i ricoveri per covid avevano raggiunto un picco di quasi mille mille pensate 157 di quali in terapia intensiva nel gennaio scorso facciamo un passo in avanti quando alla variante delta aveva già cominciato ad avvicendarsi omicron la nuova variante il picco dell'incidenza settimanale arrivò al record di 2695 con oltre 122.000 nuovi contagi in un mese eppure proprio grazie ai vaccini le curve dei ricoveri si sono mantenute basse ora per quanto riguarda giugno luglio del 2022 abbiamo questa situazione 1122 il picco di incidenza il picco dei ricoveri in ospedale 141 il picco dei ricoveri in terapia intensiva è solo di 8 unità e per quanto riguarda la sanità vediamo come i giornali questa mattina evidenziano ancora che il problema maggiore è dato dalla mobilità passiva problema che tenta di risolvere la giunta regionale con la riforma del sistema sanitario pazienti in fuga verso l'Emilia per l'agenzia del turismo Bruschini in pole position il dirigente dell'ennit fino al 2016 oggi è in forza l'automobile club d'Italia per la carica di direttore dell'atim hanno presentato domande 22 candidati e poi torniamo ancora alla sanità vediamo come i medici in pensione costituiscono non la riserva ma la risorsa dell'azienda ospedaliera Marche Nord per reclutarli vengono fatte offerte abbastanza vantaggiose e scattano appelli e offerte questo per risolvere il problema della carenza dei medici e poi vediamo il lutto che è il cordoglio che ha suscitato la scomparsa di Giuseppe Luigi Fanulli presidente del tribunale di Pesaro morto a 65 anni trovato appunto in questo stato nella sua abitazione la commozione del capo della procura Tedeschini era un uomo libero e indipendente alcuni dicono anche che era un uomo buono e questo equilibrando le doti di magistrato fa di lui un uomo apprezzabile PNRR tanti soldi da far gola patto contro il pericolo di infiltrazioni della malavita Pesaro in questi giorni sta tirando grandi finanziamenti e quando ci sono grandi finanziamenti quindi grandi appalti subito la malavita comincia a così a centrare la sua attenzione e quindi la guardia di finanza e il comune di Pesaro pongono le mani avanti cercando di evitare qualsiasi infiltrazione estranea alla regolarità degli appalti e veniamo ora al resto del Carlino vi dico ancora alcune notizie Panem Cisces tornano i Baccanali la città pronta a tuffarsi nell'affano dei Cesari in questo articolo vediamo altre notizie che non vi ho riassunto leggendo il Corriere Adriatico si tratta di uno spettacolo cui quest'anno potranno assistere 4.080 persone che potranno entrare nel circuito del Pincio 650 le persone che parteciperanno alle sfilate in abiti storici e ancora per l'anno prossimo però verrà introdotto secondo quanto dichiarato dall'assessore al turismo e agli eventi Etienne Lucarelli il biglietto a pagamento e beh anche questo spettacolo vuole un po' di entroiti comunque 4 giorni di Romanità quest'anno completamente gratuiti con le sfilate in costume la corsa delle mighe appuntamento da giovedì 14 a domenica 17 luglio anche qui abbiamo la guerra del digestore con la foto di Agnese Giacomoni capogruppo del Partito Democratico che si allinea con il segretario della Dora per ribadire il no alle tesi manifestate dal Partito Socialista che voleva una riapertura del dialogo con marche multiservizi l'assessore alle infrastrutture regionali Baldelli annuncia che la strada delle barche questo progetto che è rimasto in un cassetto da tanti tanti anni viene rispolverato è stato sbloccato l'iter ha dichiarato l'annuncio dell'assessore regionale alle infrastrutture il rischio di perdere quegli 800 mila euro che erano pronti disponibili da tanti anni ora viene scongiurato il rischio era di perderlo era reale ora invece per fortuna questo rischio non c'è più presto incontrerò il ministro Giovannini ha dichiarato Baldelli per discutere di un progetto per tutti i comuni delle marche comunque il progetto della strada delle barche dovrebbe valorizzare dare un nuovo assetto anche di tipo urbanistico tutta la zona del Bersaglio tutta la zona dell'ex pista dei go-kart che in questo momento versa in uno stato di degrado denunciato più volte dal comitato le brecce e poi c'è un articolo che riguarda le terme oggi sul resto del Carlino perché Natali che è il portavoce dell'avvocato Natali il portavoce delle nuove proprietà dice che il progetto preliminare è pronto a metà luglio verrà presentato la firma del Politecnico di Milano qualche anticipazione realizzeremo a detto un centro termale che non sarà di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva ovvero di un albergo a 5 stelle quindi non è solo l'albergo che ha le terme ma sarà a disposizione di tutta la popolazione sarà un centro indipendente dall'albergo l'albergo funge da servizio al centro e non viceversa e poi vediamo che sono ottime le acque così come sono state riscontrate dagli accertamenti si potrà tornare nel parco a bere l'Orianna mentre l'acqua Beatrice alimenterà le piscine che si svilupperanno per 3.500 metri quadri il bosco delle terme sarà completamente rivalutato abbiamo incaricato una società specializzata che sta facendo uno studio su tutte le piante e la vegetazione anche il bosco ora cresciuto spontaneamente sarà curato e coltivato in modo appropriato mani al collo alla compagna shock al bar ieri un episodio anzi l'altro giorno un episodio così di cronaca a Fano inaspettatamente una lite stava debordando una lite tra lui e lei sembra questioni di gelosia lei voleva andare al mare da sola il marito o il compagno ha inveito ebbene forse aveva un po' alzato il gomito dice il resto del Carlino ebbene che cosa ha fatto ha prima emesso degli insulti e poi accuse urla squarciagola è volato uno schiaffo la donna addirittura dalla violenza dell'atto è caduta per terra ancora calci e pugni insomma veramente questo di fronte a tanta gente sono arrivati i carabinieri e poi i tavolini a terra bicchieri rotti insomma è stato un episodio che ha destato parecchia sensazione ieri c'è stata la consegna delle borse di studio da parte della banca di credito cooperativo nel teatro della fortuna borse di studio ai figli dei soci la BCC eroga 82 mila euro di contributi di assegni ebbene sono i figli dei soci che ci sono distinti negli esami di terza media della scuola superiore e della università è un atto questo di solidarietà che si ripete ogni anno e ogni anno appunto c'è questa erogazione in memoria di Mirko e Monica Buttaroni giovani neosposini di Lucrezia vittime di un incidente aereo avvenuto avvenuto proprio al termine del viaggio di nozze quindi veramente un episodio che desta ancora tanta emozione tanta sensazione a Urbino vediamo come ritorna il gioco della Ita dopo due anni di assenza la festa del Duca ritroverà l'atmosfera creata dall'antico gioco Urbinate spettacoli ed esibizione è un gioco violento un gioco animoso diciamo più che violento placcaggi contrasti salti sotto la bandierina e poi il pubblico che rugisce al momento di segnare un punto ebbene uno spettacolo da vedere e questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.